Benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video vi farò un haul squishy Questo qua è il sito dove li ho acquistati Non costano cari Lascio gli emails E il sito che vi lascerò giù nell'info box Leggetelo E cominciamo Allora Ad impatto sembrano pochi ma in verità sono tanti Cominciamo con questi due offer di Ropitti E che ora vi mostrerò meglio Squishandoli bene bene Ok questo non è molto slow rising Però ci va Ce lo facciamo andare Bello E' bello ma un po' durito Poi c'è questa Ropitti Molto morbida pure questa Oh che bello Ed è morbida Non è originale della Sandrio Questo ve lo dico già Ora vi faccio vedere l'etichetta Non è originale Se la volete comprare Dite non è originale della Sandrio Ve lo dico io Così almeno lo sapete già E' di qualche marca strana cinese Poi c'è questo personaggino di Nomi Lipo Che non mi ricordo il nome però E per essere così piccolo E' uno dei più slow rising A parte quel panino Che vedete Un po' Ed è originale della Disney Amo gli squishy belati Sono troppo carini Poi vediamo cosa prendo Questa qua è una bustina Non è uno squishy Dove si potevano trovare Cupcakes Cake rolls Poi tipo dolcette Ecco Torte Come potete vedere E altre cose Che E pancakes O crepes Non so cosa sia Io ho trovato il cupcake Con la base azzurra Ma io lo amo Lo amo Anche se non è squishy È troppo carino E questo Con il fiocchetto Del fragole Ecco Ed è originale Della Sandrio Questa è una cosa molto bella Della Sandrio Ragazze Sono troppo felice Poi c'è questo Macarons Di Minnie Con la fracolona Che buona Ehm A me mi piace Ed è un po' slow rising Ma non tantissimo Poi c'è questa Mini ciambellina Della pitti Molta morbida Con la glassa al cioccolato E gli zuccherini E il fiocco rosso E credo che sia originale No Ho sbagliato Bene Non ho uno squishy originale A parte quello di Minnie Ora prendo queste cose Che sono dei portachiavi A forma di biscottino Con una fatina E non so cosa sia l'altro E sono i Petite Pickup E sono originale Della Disney E a me Io li amo Sì ragazze Sono nel paradiso Petite Pickup E l'altro non so cosa sia So solo che una è una fatina Poi c'è questo Macarons Di Hello Kitty Molto carino E molto slow rising Però è un po' di bucato E il fons trappio elastico Non so parlare Ed è molto carino Madonna Poi c'è questa tavoletta di cioccolato Che non fa i rumori Sì li fa Però non si sentono dalla fotocamera Mi dispiace ragazze Cioè Non si sentono Ed è verde Ma c'è Sono a casa Con i squishy Che ti arrivano Poi c'è questo panino Ragazze Questa È originale Non so di che marca Perché è giapponese E guardatela Slow rising Nuovo termine Nuovo termine Troppo carino Io non so Sono dolce Perché lo zucchero a velo Troppo slow rising Madonna mia ragazze Lo amo Lo amo Lo amo Che morbido Morbidosità 100% Ok Ho quasi finito Mi mancano solo due cagine Carini C'è ancora lo squishy Van Eccolo qua Con l'insalata Tutto dentro Non è molto morbido Ma vabbè Non fa niente Poi c'è questo Luchitti Portachiavi Oppure Una collana La potete fare Molto carina Lo amo Vabbè ragazzi Per questo video è tutto E alla prossima Ciao